Se l'asilo deve essere un posto sicuro, di certo non bisogna trovarci veleno per topi. Invece, è quello che è accaduto nel quartiere di Pantano, nel giardino dell'asilo nido Mondogaio. Qui, una pasticca di topicida è finita fra le mani di un bimbo di due anni che, non sapendo cosa fosse, l'ha afferrata portandola impulsivamente alla bocca. La notizia, come ha riportato il resto del Carlino, è stata resa nota solamente ora, pur essendo avvenuta lunedì scorso, quando il bambino, insieme ad una coetanea, sono stati portati immediatamente all'ospedale di Fano per accertamenti. Dopo alcuni controlli, i medici si sono assicurati che i due bambini non avessero ingerito alcuna sostanza nociva, dimettendoli in breve tempo. Dopo le analisi, sembrerebbe tra l'altro che la bambina sia risultata positiva al Covid-19. L'accaduto, seppur accidentale, non è stato digerito né dai genitori né dal complesso scolastico. che, approfondendo la questione, hanno rilevato come pochi giorni prima un'impresa di disinfestazione avesse sistemato del veleno per topi all'interno di alcune scatole. La ditta coinvolta ha anche riferito di essersi accertata di non aver lasciato alcuna traccia di veleno. Ora, però, va chiarita la dinamica di un episodio grave, ma che, per fortuna, si è rivelato senza conseguenze.